La notizia è quella della sospensione del servizio di assistenza domiciliare per 90 pazienti. Il Comune di Pescara dichiara di avere difficoltà con i fondi e di interromperlo fino al primo aprile. In realtà sono 150 perché ad alcuni viene completamente eliminata l'assistenza domiciliare, cancellata, e in altri casi c'è una riduzione d'orario. Faccio presente che tra l'altro è già insufficiente a Pescara la copertura per quanto riguarda l'assistenza domiciliare integrata, così come molto altro in campo di politiche sociali rispetto ai comuni del Nord Italia o dell'Emilia Romagna. La nostra situazione è un welfare municipale che è quasi inesistente. Ci voleva il PD e questa pseudosinistra, il governo della città, per tagliare su una spesa di questo tipo e raccontare che non ci sono i fondi mi sembra francamente scandaloso, bisogna scegliere delle priorità e ovviamente è inutile fare mente locale su quante cose si possono tagliare prima di andare a colpire chi soffre di Alzheimer, i tetraplegici, Parkinson, tra l'altro persone che non solo hanno questi guai di salute enormi ma devono anche per avere accesso a quel servizio non hanno neanche un reddito molto elevato quindi andare a tagliare su quel tipo di spesa è davvero una cosa irresponsabile di cui io non ritengo che il peso possa gravare soltanto sull'assessore competente che anche se avrebbe fatto bene a battere i pugni sul tavolo ma sull'intera maggioranza e intera amministrazione.